A Panettieri si rinnova la magia del Natale. Il 25 e 26 dicembre 2011, 1, 6 e 7 gennaio 2012 dalle 17 alle 20, va in scena per l'undicesimo anno consecutivo la più grande rievocazione del presepe vivente. Il nuovo allestimento racconterà il fascino immutato di una storia sacra. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!